ciao stronzo sì dico a te che vuoi giocare così tanto cyberpunk 2077 che minacci di morte gli sviluppatori che tanto si cadono addosso per altri motivi e prima di marzo 2021 non esce pronostico by me poi vediamo se non è vero e perché vuoi giocare a cyberpunk per le ambientazioni per il tema per chiano rives ah non credo proprio perché è cd project questo è il vero motivo e tutti abbiamo apprezzato the witcher perché cd project sa scrivere bene le storie ma non sono molto bravi nel frangente gameplay ricordiamo tutti quanti la merda del secondo e mezzo per qualunque spostamento di gerard che si doveva aspettare per muoversi o la peggiore erba mai vista nel gaming del 2016 o il combattimento action più lagoso che mai cd project è scarsa in ciò ma ubisoft no vi dico una cosa pianino venite più vicini il nuovo assassin's creed valhalla e the witcher 3 ma fatto meglio il nuovo capitolo valhalla di ubisoft è un progetto del tutto simile alla nuova piaga intrapresa dalla grande u per la serie di assassin's creed cerca di raccontare una storia prendendosi il tempo necessario per evitare soluzioni narrative troppo tirate via il gioco comincia molto lentamente non è chiaro fin da subito che strada volesse intraprendere tra racconto e gameplay con momenti confusionari tra le nuove modalità assedio e razzie incredibilmente simile allo stile di for honor rileva dei limiti di programmazione per lo studio che ha dovuto subire parecchi colpi durante lo sviluppo come il covid o la perdita di uno dei director dopo un lungo momento di assestamento che dura all'incirca dalle 10 alle 20 ore di gioco comincia a essere chiaro nella sua interezza e si sviluppa in una serie di saghe che vedono il protagonista spostarsi nelle varie zone d'inghilterra per conoscere personaggi molto ben caratterizzati e cercando di farsi degli alleati come in qualunque gdr di stampo classico si tratta quindi come gli scorsi capitoli di un gioco di ruolo open world di stampo action ma comunque abbastanza parametrico quindi dovremmo girare per il mondo salire di livello sbloccare combo e abilità per progredire il sistema di combattimento è molto simile a odyssey oltre a roll al doggiare ai perri parate dovremo imparare a dosare la stamina durante i combattimenti quasi fosse un souls like ok no affermazione azzardata non è un souls like le animazioni legnose il fishing per cercare di fregare l'ia del tutto scarsa ma che compensa con grande forza eserciti numerosi che ci costringono a un mordi e fuggi continue e azioni molto ripetitive sono errori che ubisoft si porta sempre dietro e non riesce a migliorarsi mai su questi frangenti ma è ubisoft le vogliamo bene non sarebbe lei senza i suoi baggettoni spaziali gameplay e trama si evolvono contemporaneamente si passa da un lungo viaggio marittimo che tenta di ricollegarsi con la trama originale che ha contraddistinto la saga al dover gestire le risorse che si sono razziate nei piccoli villaggi inglesi per nutrire il proprio popolo quasi come la già vista meccanica di gestione e build in fall out 4 partecipando a missioni secondari di raccolta molto ripetitive in una mappa esageratamente grande le uniche variazioni dipendono dal livello di sfida e dai puzzle ambientali per trovare tesori più consistenti lo schema principale quindi quello di uccidere silenziosamente qualche unità nemica e poi suonare il corno per dare inizio a una razzia affrontando mili le truppe locali prendendo a piene mani spunto da odyssey sia nel gameplay che nel racconto della trama eliminando mosse speciali e interventi divini stesso vale per l'utilizzo del corvo un modo per dare un'occhiata all'insediamento vicino dall'alto che non sarà in grado però di marcare i nemici come avveniva in precedenza le grandi novità sono le armi a kimbo dove potremmo decidere se avere due singole armi come spade o asce spada e scudo o armi a due mani questo impianto funziona bene nell'1v1 ma quando i nemici su schermo diventano di più aumenterà anche la confusione dando vita a sequenze complicate con interazioni approssimative che danno una chiara idea di scarsa rifinitura nello swordplay la difficoltà è crescente e non si sarà mai troppo forti né troppo deboli avendo sempre scontri di difficoltà impegnativa dal punto di vista parametrico nel gameplay potremmo uccidere sì nemici di livello più alto del nostro quasi a voler sottolineare che il nostro protagonista sta imparando come combattere e a diventare il vichingo perfetto ma richiederà davvero molto tempo e bisognerà non perdere la calma e non fare mai passi falsi per evitare di inciampare in un game over prematuro al contrario di un the witcher o un neo il loot si è rivellato davvero basso esiguo dividendo addirittura il nostro studio a metà con una parte dei partecipanti che hanno provato il gioco ad essere insoddisfatti per il poco loot e l'altra parte invece contenta di avere pochi loot ma fatti a modino con una progressione non scontata sono presenti poi attività secondarie che si ripeteranno molto in fretta tra cui una delle nostre preferite un vero e proprio gioco di ruolo sviluppato tramite il lancio di dadi come nel titolo indie armello un gioco di avventura sviluppato come un gioco da tavolo una cosa è sicura ubisoft nella composizione geografica e paesaggistica delle mappe ha sempre saputo fare dei piccoli miracoli e mostra i muscoli anche nel nuovo titolo creando ambientazioni molto suggestive e varie a discapito dell'antico motore grafico è possibile scegliere un avatar maschile o femminile per affrontare la campagna il doppio dna viene giustificato narrativamente ed è possibile passare in qualunque momento da un sesso all'altro oppure lasciare chi sia il sistema a decidere per noi alternando uomo e donna e non date ascolto alle persone che con pregiudizi rifiutano l'idea di vedere un vichingo donna si dovevano riprodurre pure loro nell'antichità e considerando quanto fosse battagliera la loro politica non è scontato che anche le donne venissero educate con determinate ideologie violente poi si d'accordo rapivano donne nelle loro razzie e le violentavano anche ma questo è un altro discorso le alleanze sono differenti in quanto piccole campagne narrative appassionanti e ben scritte una formula divisa quindi in svariate saghe che richiamano l'atmosfera e la mitologia norrena sul fronte del sistema tra scelte e conseguenze siamo per lo più soddisfatti missioni che si traducono in bivi narrativi e producono risultati tutto sommato tangibili non solo nell'immediato ma soprattutto in vista del finale le colonne sonore sono accettabili ma non vanta quella personalità riscontrabile nei precedenti capitoli alcune sequenze avrebbero meritato un accompagnamento più significativo altre invece sono incredibilmente dimenticabili Valhalla è caratterizzato da una visione alternativa e differente di una struttura nella narrazione ed ha una campagna troppo grande da affrontare senza risultare stucchevole e ripetitiva un open world con struttura simile agli altri con longevità che è sostanzialmente basata su missioni secondarie fotocopiate estremamente lenta e confusa soprattutto nelle prime ore di gioco il gameplay ha delle variazioni ma non bastano a gridare il miracolo graficamente invece e nelle composizioni dalle abbastanza varie ambientazioni il gioco mostra il suo meglio ma si sa non basta la grafica per fare un gioco nuovo quindi si sono usciti da poco quindi sono nuovi ma la formula è di un gioco vecchio di una o forse due generazioni fa grazie a tutti